Non posso essere contemporaneamente un simbolo antimafia, un sindaco antimafia con la scorta e dall'altro lato arriva una commissione di ispezione nel mio consiglio comunale per un'ipotesi di scioglimento per mafia del comune, quindi non stanno insieme le due cose. Le persone finite al centro dell'inchiesta si erano candidate con il centro-destra e poi sono passate nel centro-sinistra, rispetto a questo lei ha fatto una sorta di assunzione di responsabilità? L'anomalia è che il centro-destra attacca l'amministrazione comunale quando le due persone sono state elette da loro e sono state le più violente in assoluto in quella campagna elettorale. Sono persone che sono state candidate da quello stesso centro-destra, da quelle persone che stavano nella stanza del ministro, non so se gliel'hanno spiegato al ministro che erano state elette con loro. Poi c'è un problema in questa città che è un problema di compra e vendita di voti che anche io ho denunciato a maggio del 2019, ne ho denunciati tre e due di quei tre riguardavano persone che votavano per la mia parte politica. Io sono andato con la persona a cui avevano offerto dei soldi, sono andato in quest'uro, l'ho accompagnato io in quest'uro, l'ho obbligato a venire con me a fare una denuncia. Il percorso di questi dieci anni ha fronteggiato a muso duro molte organizzazioni criminali con tante denunce, smontando il sistema delle estorsioni e danni dei mercati, per esempio delle spiagge cittadine. Qual è l'episodio che ha segnato un po' il giro di Boa in questa lotta alla criminalità organizzata? Sicuramente le estorsioni a Carrassi. Ho incontrato per tre giorni di seguito insieme all'Antiracket i commercianti che non si fidavano. Avevano ragione perché la persona che gli faceva le estorsioni stava di fronte, aveva la pettolina dell'azienda dei rifiuti, era uno. Che col passaggio, la clausola sociale, passando da cooperativa in cooperativa, lavorava per l'azienda dei rifiuti e gli faceva le estorsioni. Poi li ho convinti e li abbiamo fatti arrestare. Sia lui, Diomede, faccio i nomi, sia Sedicina, sono stati arrestati entrambi. Mi sono costituito parte civile insieme all'Associazione Antiracket, insieme ai commercianti. Non è facile affrontare i clan criminali che ti minacciano, minacciano te e la tua famiglia. Anch'io ho paura. Io non sono un supereroe, ho paura anche io. Ma io ho un dovere istituzionale nei confronti della mia città, che è quello di non abbassare la testa davanti ai criminali e di non girare la testa dall'altro lato. C'è qualche cittadino che ha detto che può essere anche l'occasione, l'arrivo di questa commissione, per sgombrare da campo da qualunque dubbio. Cosa risponde rispetto a questo? Noi siamo a completa disposizione della commissione. In realtà il tema è legato a un'azienda comunale, nemmeno al comune. In quell'azienda già la procura ha nominato un amministratore giudiziario che accompagna il Consiglio di amministrazione nelle scelte. Lo stiamo incontrando periodicamente. L'ho incontrato anche io su alcune scelte che riguardano il socio unico. Abbiamo condiviso, quindi mi sembra strano che sia arrivata questa commissione, tra l'altro in piena campagna elettorale, a tre mesi dal voto, con un centro-destra che non ha ancora individuato un candidato e non ha proposto nemmeno un'idea di programma per questa città.